Siamo con Alex De Angelis, allora Alex, preparazione per il Gran Premio di casa, possiamo definire, visto che è casa tua questa. Sì, in realtà oggi ci divertiamo un po' per cercare di non pensarti più di tanto, ma in realtà l'adrenalina per il Gran Premio di casa è tantissima. L'adrenalina che sale, come giustamente dicevi, speriamo in un buon GP e soprattutto nel sole diminese. Ma io in realtà domenica spererei in qualche goccia, come domenica scorsa, che almeno possiamo provare ad andare a punti, però ovviamente per il pubblico di casa se c'è il sole è sicuramente meglio. I propositi per il finale di stagione? Ma stiamo lavorando con Aprilia per cercare di avere una moto migliore per finire la stagione, proprio da Aragon, speriamo di trovare l'accordo perché per me sarebbe veramente importante riuscire a fare qualche risultato in più. Grazie Alex.